Avola, duello rusticano, un uomo riverso a terra con ferite da taglio alle mani e al fianco, denunciate tre persone per rissa aggravata. Nel pomeriggio di sabato gli agenti del commissioniato di Avola sono intervenuti in via Livorno, notando un assemblamento di persone e avvicinatasi. Trovavano un uomo riverso a terra con ferite da arma da taglio alle mani e al fianco. Gli agenti facevano intervenire il personale del 118 che accompagnava il ferito in ospedale e arrecatesi anche loro presso il nosocomio. Vi trovavano un altro uomo che presentava ferite da arma da taglio al collo e alle mani e che si era allontanato da via Livorno con la propria automobile all'arrivo degli agenti. Gli investigatori a seguito dell'attività di indagine hanno accertato che tre persone erano rimaste coinvolte in una rissa per vecchi rancori dovuti a dissidi familiari e dopo essersi minacciati a vicenda erano passati alle vie di fatto ferendosi con un coltello da cucina. Tre uomini rispettivamente di 56, 40 e 30 anni sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata, lesione personale e minacce gravi.